ricordate quel film che titolava fermate il mondo voglio scendere era di Giancarlo Cobelli protagonista Lando Guzzanca ma era anche il titolo il climax si dovrebbe dire di un carosello con gentleman Ernesto Calindri sempre sempre nel nostro cuore un grande amico ebbene questa frase fermate il mondo ferma il mondo di come vuoi voglio scendere è capitato spesso di sentirse la pronunciar dentro nel momento in cui si leggevano notizie bianche rosa grigie nere rosse che sui giornali nelle televisioni rimbalzavano in questo inizio di estate veramente ribollente ora per tentare di tirare una riflessione che sia anche saggia ma sagace ugualmente noi abbiamo soltanto un nome da proporre a noi stessi e a voi un mio un vostro amico che è il giornalista l'editorialista Federico Guiglia il quale è già pronto per tentare che insieme si faccia un minimo di riflessioni su quanto attorno ci sta accadendo come sempre dopo la sigla allora Federico benvenuto ben ritrovato di cuore ciao ciao grazie dell'invito sono arrivo e diciamo sono presente sempre molto volentieri si sempre quando io ti quando io ti chiamo è perché sono in difficoltà non trovo il bandolo delle situazioni della cronaca che ci gira attorno ma so che è un piacere colloquiare con te per questo ogni tanto ti chiamo e tu come sempre sei disponibile allora a te ti faccio intanto una domanda da preambolo è mai capitato in quest'ultimo periodo di dire fermati il mondo vorrei tanto scendere Federico obiettivamente no perché sono interiormente una persona molto malinconica ma esteriormente molto ottimista quindi anche a fronte delle notizie e delle vicende che inducono ad avere poca speranza nel in tante cose non mi demoralizzo mai e quindi no questo è un bel mondo perché dobbiamo scendere no no è un inizio che mi piace assai adesso approfondiamolo da dove vogliamo cominciare Federico io pensavo di partire da un obbligo quasi morale dal dopo Berlusconi di cui tanto si è parlato cosa ti pare che dopo Berlusconi è stato è in effetti siamo quasi a un mese lui è morto il 12 giugno se ricordo bene quindi si può cominciare a fare un mini bilancio del dopo a mio parere non è cambiato nulla rispetto a prima e non cambierà nulla almeno fino al voto europeo della primavera del prossimo anno nel senso che Forza Italia la sua eredità politica potrà avere una prova d'appello importante e dovrà averla in quel momento lì cioè alla fine saranno gli italiani e gli elettori a decidere il futuro di Forza Italia non i dirigenti o la famiglia che certamente contribuiranno a dare il massimo del loro impegno in tal senso ma paradossalmente e forse anche giusto che sia così se Berlusconi è stato l'alfiere del bipolarismo come è stato detto e spiegato da tutti gli osservatori quindi dell'alternanza di governo quindi dello stare di qua o di là quindi Berlusconi o Prodi centrodestra o centrosinistra e dunque in qualche modo dando la parola ai cittadini saranno di nuovo i cittadini con le europee del prossimo anno a stabilire se il partito che lui ha fondato meriti un futuro oppure se debba essere archiviato con il suo fondatore. Vedremo intanto all'ombra del grande Silvio c'è il Pier Silvio Berlusconi hai visto te l'avresti pensato che avrebbe cominciato a mettere riparo a quella tv trash che stava diventando ormai Mediaset e la cacciata della D'Urso non se l'aspettava nessuno. Dunque che lui voglia e abbia sempre cercato di dare una sua impronta anche per mostrare indipendenza giusta indipendenza ormai un ragazzo maturo un uomo rispetto al padre non è una novità diciamo che la televisione commerciale in particolare ma non solo la televisione commerciale ha la difficoltà del tempo che viviamo e del mondo da cui è comunque importante mai scendere e dunque non sempre riesce a essere lo specchio della società e in particolare della società italiana. Si parla tanto di televisione di qualità ed è l'auspicio che tutti noi ripetiamo ogni qualvolta col telecomando passiamo da un canale all'altro cercando qualche cosa che ci interessi ma non è facile stabilire che cos'è la qualità. A mio parere la qualità è cercare di raccontare l'Italia al meglio perché l'Italia dà una qualità della sua gente, del suo essere nazione, della sua storia, dei suoi paesaggi, di tutto ciò che l'Italia rappresenta non solo per noi per il mondo riuscire a raccontarla al meglio e il più fedelmente possibile sarebbe già una dimostrazione di televisione di qualità ma non sempre questo è possibile non sempre diciamo anche gli investimenti per poter fare questo arrivano e non sempre poi coloro che questo si cimentano lo fanno al meglio e dunque è una scommessa molto difficile ma molto importante non solo per le televisioni commerciali ritengo. Intanto di questa Italia l'Istat dice sta invecchiando troppo, c'è necessità di migranti e l'estate degli sbarchi infiniti abbiamo visto e ci ricordiamo tutti come è cominciata da quei cento bimbi nella stiva e dalle bugie della marina greca. Dunque che stia invecchiando ahimè lo sappiamo e lo scrivo io stesso molto spesso sui miei giornali da tempo e non da oggi. Siamo ahimè diventati il paese più vecchio d'Europa e siamo immediatamente dopo il Giappone il paese più vecchio del mondo con il rischio di poter non troppo tardi superare persino il Giappone. Il grande tema che dovrebbe riguardare la politica lo lo scriviamo e lo diciamo da tanto tempo forse qualche cosa negli ultimi tempi si è finalmente mosso il grande tema è come sollecitare il ritorno a ciò che è naturale ossia alla natalità come fare per infondere speranza nel popolo italiano. Io ricordo sempre essendo nato e vissuto fino a 13 anni in america latina in uruguay e se c'è un continente che non può essere certo additato come un continente super sviluppato è l'america latina l'america in particolare l'america del sud eppure l'amore per la vita che si ha in america e si è sempre avuto in america del sud e che si continua a avere notevole tu troverai moltissime famiglie umili povere con lei che non riesce a trovare lavoro e lui che in qualche modo si arrancia che però hanno uno due tre quattro figli cioè la speranza è la cosa più importante nella vita quindi se questo nelle società benestanti europee e in particolare nella nostra non è ormai possibile da molti anni è evidente che una politica istituzionale e strategica deve essere fatta a riguardo con provvedimenti oltretutto che già si conoscono e che si ripetono da tempo dalla costruzione dei più asili nido ovunque per consentire alle mamme che lavorano di poter appoggiare per diverse ore i loro figli tra persone tranquille e che li educano e la possibilità di avere incentivi per le famiglie che hanno figli o che hanno tanti figli insomma ci sono tante misure non è il caso qui di elencarle certo è che il governo e in questo sembra sensibile ma tutto il parlamento e anche esso sembra sensibile devono prendere questo toro per le corna e dedicarsi anche magari con una seduta plenaria di camera e senato perché questo è veramente il grande tema dei prossimi anni tutto ciò che si farà adesso potrà avere un'influenza sulla previdenza sulle pensioni sulla sanità del futuro dei nostri figli e nipoti se non ci si muove diciamo che si rischiano danni catastrofici non solo economici per cui questo tema della denatalità che in parte poi si collega anche ad una migrazione alla possibilità di avere un certo numero di migranti per anno è fondamentale e non è più rinviabili non è più veramente non c'è neanche più il tempo per parlarne bisogna agire e basta agire certo certo così come per il cambiamento climatico senti federico social e youtuber è inutile qua elencare i vari episodi di cronaca anche tragica però c'è una incentivazione massificante degli di questi episodi cosa cosa ne pensi questo in un certo senso riflette e il mondo sempre più aperto e la globalizzazione nel senso che nessun in campo digitale cercare di porre limiti controlli e monitoraggio e monitoraggi in certi ambiti e anche abbastanza regole in particolare in certi ambiti è ovvio ma non si può andare più di tanto qui la grande mancanza e la l'educazione delle famiglie l'educazione della scuola l'educazione della società in questo senso poi tutto ciò che diciamo leggiamo attraverso le reti sociali ma manca cioè il tema della di un paese che possa regolare questo ambito è molto fragile e molto teoretico in realtà ciò che molto dovrebbero poter fare sono appunto le famiglie alla scuola che hanno da tempo da molti anni ormai rinunciato al loro compito non so se perché temono di poter essere in qualche modo considerati autoritari rispetto ai loro figli non so se per inesperienza per me ne freghismo indifferenza però questo è un grande tema che riguarda la società e la comunità in generale e dunque che dovrebbe essere affrontato non dico risotto ma affrontato prima di tutto a casa nelle famiglie un minuto dopo a scuola e solo alla fine dallo stato però vedi che la scuola è in difficoltà anche qua la cronaca ci parla di spari alla profe in una scuola di rovigo genitori che querelano la professoressa studenti quei cecchinetti lì che vengono promossi pur con un voto in condotta abbassato poi c'è la pantomima farsa subentra il ministro gli abbassano il voto ma ma vengono promossi questa è la nostra scuola in parte e in termini patologici non solo negli episodi che citavi questa è ciò che appare la nostra scuola ma la nostra è una scuola formativa che nella maggioranza dei suoi allieviti tutti gli ordini e gradi dall'elementare all'università è ancora una scuola di eccellenza e lo dimostrano se mai volessimo avere dei riscontri oggettivi i tanti ragazzi e ragazze i cervelli che fuggono e che si impongono ovunque raramente tornano indietro perché sono valutati e strapagati nei paesi in cui vanno a infondere ciò che hanno appreso grazie alla scuola italiana qui ciò che a mio parere manca è diciamo la l'incarnare il ruolo da parte degli insegnanti che hanno rinunciato ad un principio di autorevolezza che è fondamentale nell'ambito della scuola e il ficcare il naso da parte di molte famiglie non rendendosi conto che la scuola riguarda soprattutto insegnanti e in particolare gli studenti quindi cercare di familiarizzare la scuola invece che lasciare che la scuola diciamo contribuisca a formare le generazioni di domani è un errore e quindi gli insegnanti dovrebbero avere non solo più competenza ma più coraggio più capacità di intervenire più capacità anche di mettere brutti voti quando questi brutti voti sono meritati e le famiglie dovrebbero avere più rispetto per gli insegnanti e non partire dal presupposto che tuo figlio o tua figlia abbiano ragione a prescindere anche quando si comportano malissimo ecco quando ho pensato al titolo e ho scritto fermi voglio scendere mi riferivo soprattutto a una patina molto brutta che sembra invadere la nostra società si chiama violenza violenza to cure violenza che diventa un modo non soltanto di agire ma di pensare che prescinde dal nero dal bianco dal rosso che prescinde anche dai pregiudizi e dall'arzismo questa violenza incontrollata ecco anche qua una tua riflessione beh diciamo che la violenza purtroppo fa è connaturata all'essere umano da svariati secoli e come giustamente dicevi una società si distingue dalla barbarie proprio per il fatto che regola cerca di impedirla e la reprime quando essa si scatena però non per ripetermi ma credo che sia una cosa importante anche la questione della violenza di vario genere dovrebbe essere prima di tutto regolata dai nuclei familiari dove dove uno vive dove uno cresce il rispetto per l'altro per l'altra e se lo impari fin da piccoli non lo dimentichi mai più ma devi appunto impararlo e devono esserci un padre una madre che siano consapevoli di questi messaggi e contribuire a diffonderli e poi ovviamente il ragazzo la ragazza dovranno fare i conti con la società e con quello che la società di meglio e in peggio esprime diciamo che da questo punto di vista la legislazione in realtà aiuta poco perché negli ultimi 40 anni tutti i governi complici sono stati si è stata fatta una legislazione molto permissiva che tende diciamo a privilegiare l'interesse dell'imputato rispetto all'interesse della vittima del reato e questo crea una profonda ingiustizia crea delle condanne ridicole per reati molto gravi crea quindi il presupposto la credenza il pregiudizio che in fondo essere violenti diciamo non sia poi così deplorevole perché se proprio ti beccano che fai qualche cosa di illecito in qualche modo te la cavi o te la cavi con molto poco quindi anche da questo punto di vista il legislatore dovrebbe aggiornare il suo approccio rispetto all'organizzazione sociale e diciamo avere un un occhio molto più interessato per la certezza della pena e per punire i colpevoli perché nella società esistono gli innocenti ma esistono anche i colpevoli ahimè certo sono i presunti innocenti ma gli acclarati colpevoli con sentenza definitiva quindi tornare a diciamo a guardare la società dal punto di vista della vittima del reato e non di chi lo crea può essere anche questo un antidoto per contribuire ad abbassare il tasso di violenza che c'è nella nostra comunità e non solo in italia naturalmente ti sei detto prima nato e vissuto in uruguay un onore un vanto per chi ti conosce come il sottoscritto che ti piace portare hai perfettamente ragione ti sollecito intanto con una notizia poi proponiamo quel video che tu stesso mi hai proposto stando alle fonti ufficiali l'anagrafe degli italiani residenti all'estero federico cioè nostri concittadini che vivono fuori dall'italia sono un numero superiore a quello 5,2 milioni degli stranieri che risiedono in italia cioè il grosso del fenomeno riguarda gli italiani che si sono trasferiti all'estero per lavoro e non soltanto per banalmente la pensione che viene rivalutata questa notizia come la giudichi beh non sorprendente ma importantissima e ahimè anche questa contribuisce a far vedere il disinteresse istituzionale che molto spesso sia nel nostro paese per fenomeni che potrebbero contribuire a migliorare moltissimo la vita di noi tutti e anche della nazione in senso generale e avere 5 milioni e 25 milioni e 200 mila cittadini italiani nel mondo significa quasi il 10 per cento dell'intera popolazione siamo a 59 milioni quindi poco meno insomma so questi sono degli autentici ambasciatori di italianità io però arrivo addirittura a dire di più che ancor più importanti ambasciatori di italianità rispetto agli italiani che lo sono a tutti gli effetti sono i discendenti degli italiani che nelle sole americhe raggiungono la cifra di 80 milioni di cittadini ora noi abbiamo in giro per il mondo un tasso di amore per l'italia di simpatia per l'italia e di familiarità per l'italia creata anche da chi discende perché i genitori nonni nonni erano italiani che è notevolissimo e che i governi dovrebbero finalmente imparare a utilizzare al meglio perché sono dei ponti fantastici che servono non solo per diciamo rinsaldare gli affetti e i sentimenti e le passioni che sono delle cose molto importanti per gli esseri umani ma anche l'economia anche gli investimenti anche la possibilità di conoscere tanti paesi nel mondo la cultura la cultura cultura certo allora noi sottovalutiamo noi stessi questo è un atavico difetto degli italiani in genere e delle classi dirigenti in particolare non è finita altre domande avrò per federico ma intanto allora visto la introduzione elegantissima che ha fatto federico guiglia che ricordiamo avere la doppia cittadinanza dunque vero in uruguay e italia guardate un poco questo bellissimo filmato che federico ci ha passato e che mi piace trasmettere pubblicare siamo stati tra i primi a raggiungere questa terra siamo stati parte di dure battaglie ed epiche vittorie abbiamo fornito uomini e donne che si sono inseriti in una società appena nata abbiamo influenzato l'architettura la scultura e persino le leggi di questo luogo siamo una parte fondamentale della cultura di questa città siamo stati noi gli italiani che abbiamo contribuito decisamente alla costruzione di montevideo e non solo abbiamo contribuito alla costruzione di una nazione l'uruguay buon 2 giugno a tutti da montevideo prima capitale di cultura italiana all'estero allora un filmato creato per il 2 giugno ma è bellissimo che sia creato da montevideo è fatto ci tengo a dirlo da federico vero vinci che un uruguayano lo si sentiva anche dall'accento molto pure impeccabile italiano da lui parlato e che ama talmente l'italia che questo filmato l'ha fatto lui l'ha fatto con a sue spese non l'ha finanziato nessuno solo per il gusto e il piacere di far conoscere in giro per il mondo a cominciare dall'uruguay dove lui vive e in concomitanza con il 2 giugno farà conoscere che cos'è l'italia e questo nel suo piccolo e grande insieme ti dà l'idea di quanta strada di quanta capacità di aprirsi al mondo abbia il nostro paese e di quante porte aperte non solo in uruguay e troverebbe come le trovo all'epoca non a caso garibaldi che in uruguay mi piace sempre ricordarlo fondò si inventò la camicia rossa sposò anita ebbe tre dei quattro figli e si inventò la legione italiana che era fatta da italiani ad uruguayani e contribuì a salvare l'indipendenza di quel paese quindi il grandissimo garibaldi è da considerare un patriota non solo in italia ma anche in uruguay dove lo considerano e dove non a caso a lui hanno innalzato tanti anni fa un monumento pagato dalla gente con con una colletta popolare figurati eh quanto questo amore fosse e e sia ancora oggi genuino per eh l'eroe dei due mondi come non a caso è chiamato mi piacerebbe terminare così perché sarebbe perfetto ma mi rimane in sospeso un'ultima domanda hai cominciato con parlare dell'Europa alla mia prima domanda concludiamo con l'Europa perché quella data del 2024 è una data importante eh lasciamo stare quello che succede in Russia quello che succede in Francia tu tra l'altro hai scritto una bellissima frase sul giornale d'arena se c'era una certezza di cui la Francia amava vantarsi era quella di incarnare uno stato efficiente ecco a proposito di quel mondo da cui ogni tanto si ha la tentazione di quello scendere è di tutti quel mondo non soltanto italiano ecco un pensiero finale all'Unione Europea non solo non possiede un numero di telefono diceva Kissinger ma eh è proprio del tutto vacante eh attribuiscono a Kissinger ma in realtà pare che non sia stato lui una celebre frase eh dell'Europa è un gigante economico un nano politico e un verme militare nella sua nel nel suo nudo e crudo questa è una frase che riflette molto forse oggi un po' meno ciò che l'Europa ancora non è eh l'Europa ha dimostrato eh di essere eh un continente diciamo eh unico nella sua diversità di eh 27 nazioni sicuramente per ciò che riguarda la guerra in Ucraina sicuramente per il PNRR e per il lato economico eh che è stato finalmente eh diciamo eh condiviso fra tutti i paesi europei ma è ancora troppo poco eh il tema per esempio che tu citavi eh della migrazione è uno di del del degli scandali dell'incapacità europea di non solo di guardare lontano ma di guardare insieme eh diciamo che il nostro destino non può che essere europeo però è un destino che dobbiamo ancora costruire eh non possiamo non costruirlo eh forse eh i risultati li vedranno i nostri nipoti temo nemmeno i nostri figli ma i nostri nipoti però eh molto è stato fatto non solo la moneta unica non solo una politica che eh pur non essendo la politica estera ancora una politica unitaria ma la politica in quanto tale si muove eh e pur tra veti che vorrebbero essere aboliti si muove abbastanza all'unisono c'è moltissimo c'è molto da fare ma molto è stato fatto e anche per questo sarebbe bene non eh scendere dal mondo per eh citare sempre la tua spiritosa interessante titolazione della nostra chiacchierata e sai che sono perfettamente d'accordo con te chiacchiera e pubblicazione che ancora una volta si dimostra secondo me straordinaria per questo io ti ringrazio sono anche contento di aver potuto eh proporre il video che tu eh mi hai mandato bellissimo tra l'altro e soprattutto su cui riflettere riflettere moltissimo Federico io ti auguro una felice e serena estate caldo fredda che sia ma che sia serena e in salute ci si risentirà però nell'autunno caldo tiepido freddo che sia va bene? Sicuramente ricambio gli auguri a te e soprattutto agli ascoltatori e telespettatori e a coloro che ti seguono e che seguono la trasmissione da molto tempo e poi anche ai nuovi che arriveranno perché è sempre giusto eh aprirsi a il più possibile e integrare coinvolgere interessare no? E questo è il mondo che verrà certo. Ciao Federico grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te.